Grazie Mattia, benvenuti a tutti e a tutte. Questo è il primo appuntamento online di un progetto che è partito ormai l'anno scorso e per ovvi motivi è andato online in questa sua seconda fase di interazione con il pubblico. Il progetto Fuori dalle bolle fa parte di un'iniziativa supportata da un fondo europeo che si chiama Civitates che è nato nel 2018 per supportare iniziative della società civile europea a difesa della democrazia in Europa. Il nostro progetto ha un obiettivo molto specifico sull'Italia e nasce da una considerazione che è molto semplice e soprattutto in un contesto politico leggermente diverso da quello attuale. Eravamo in un'epoca di un governo 5 Stelle-Lega con un ministro degli interni, Matteo Salvini, particolarmente attivo nell'alimentare una narrazione esclusivamente negativa di alcuni temi come la solidarietà, l'inclusione, l'immigrazione e l'identità nazionale. Noi come CILDA e come organizzazione promotrice di questo progetto assieme al The Good Lobby e all'Osservatorio Balcani-Caucaso siamo un network di più di 40 organizzazioni che si occupano di vari diritti e unite da un'idea di diventare più efficaci su alcuni aspetti del nostro lavoro. E questo progetto nasce proprio da questa considerazione che se vogliamo tutti, come tutti vogliamo, migliorare le politiche di inclusione, le politiche migratorie, dobbiamo iniziare a lavorare sulla narrazione sottostante alle politiche migratorie. E la seconda considerazione è che, quindi, la prima considerazione quindi è che se vogliamo un cambio di politica dobbiamo alimentare un cambio di narrazione. La seconda nasce da una considerazione molto pratica. Il nostro primo progetto è Open Migration, che nasce come un sito informativo di dati fatti sulla crisi migratoria e la crisi dei rifugiati nel 2015, con l'idea che portare fatti e ragionamenti razionali e contributi di esperti potesse al tempo contribuire a cambiarla questa narrazione. In realtà, nel 2015, questa necessità era molto più sentita, soprattutto dalle organizzazioni non governative, perché si pensava che il fact-checking potesse contribuire in maniera importante a ridefinire un po' quella che era la narrazione dominante. In realtà ci siamo scontrati con alcune considerazioni per cui forse dovevamo diventare più strategici nella nostra azione di comunicazione, per cui ci siamo imbarcati in questa grande avventura di autoformazione, diciamo così, che ci ha portato ad esplorare alcuni concetti, uno dei quali è proprio il titolo di questo webinar. La comunicazione positiva, la comunicazione basata sui valori, per diventare più strategici nella nostra azione di advocacy. E il primo caposaldo di questo nuovo approccio alla comunicazione è conoscere meglio la nostra audience di riferimento. Quello che noi ci siamo accorti dalla nostra esperienza è che tendevamo molto a dare per scontato la nostra comunicazione, basato sui fatti e sui diritti. Consolidavamo la base che già condivideva le nostre istanze, ma perdevamo una buona fetta di quello che è definito il centro fluido, il centro incerto, che nella maggior parte delle società è la maggioranza della popolazione. Tutto era calibrato nel rispondere a chi invece stava dall'altra parte della barricata, con ovviamente argomentazioni totalmente diverse dalle nostre. Quindi il primo tassello di questo lavoro è stato collaborare con alcune fondazioni internazionali che nel 2017 iniziavano a promuovere in Italia la ricerca che Chiara Ferrari di Ipsos ci spiegherà nel dettaglio. Il secondo aspetto è che dobbiamo appunto capire meglio dove stavamo sbagliando e cosa potevamo fare meglio. Motivo per cui Marco Binotto ci dirà alcune, quelle che sono le sue considerazioni da un'analisi della comunicazione sul tema migrazione ed esclusione negli ultimi due decenni in Italia. Questo per passare però non solo a una fase analitica ma per passare a una fase più pratica e costruttiva che è quella di voler costruire assieme alla realtà della società civile italiana delle nuove narrazioni che possono poi spingere ad un'opinione pubblica più favorevole a politiche diverse da quelle attuali. Sappiamo che non è un lavoro a breve termine, sappiamo che è un lavoro a lungo termine però con questo progetto vogliamo proprio andare nei territori, parlare con le realtà locali cercare di capire come possiamo attivare queste narrazioni positive e con quali strumenti. Non mi dilungo oltre, vi giro quello che è l'ultimo tassello di questo lavoro che altre organizzazioni stanno promuovendo ed è la presentazione di un toolkit di comunicazione strategica che tutti voi da domani avrete a disposizione, anche da stasera avrete a disposizione se volete consultare che è stato promosso dalle fondazioni che supportano il fondo Never Alone in Italia e con un toolkit realizzato dal Centro Internazionale per Policy e Advocacy di Berlino e supportato da un'organizzazione filantropica che si chiama Social Change Initiative. Vorrei introdurre appunto questo intervento con questo video di sei minuti, è molto denso, lo potete andare a rivedere ma raccogliere in sintesi questa riflessione, questi spunti, sperando che vi trovi tutti interessati. Immagini come queste attualmente dominano il racconto mediatico sulla migrazione battendo costantemente sui tasti della paura e della sicurezza. Come siamo arrivati al punto in cui un'immagine o una metafora siano sufficienti per innescare in molte persone sentimenti fortemente negativi sul tema di rifugiati e immigrazione? Parliamo di chi è coinvolto? Qual è il problema? Quali sono le soluzioni? Da un punto di vista comunicativo, è tutta una questione di schemi mentali e prospettive. In breve, gli schemi mentali sono lenti che usiamo nella vita per guardare e comprendere questioni complesse e impegnative, come la migrazione o il cambiamento climatico. Quando un nuovo argomento entra nel dibattito pubblico, ci sintonizziamo sui mezzi di informazione e sui social media, ne discutiamo con gli amici e finiamo con l'adottare una certa prospettiva o un determinato schema mentale. Una volta interiorizzati, gli schemi diventano la nostra chiave di lettura personale. E col tempo, alcuni schemi si trasformano in storie collettive fortemente condivise. In questo modo, si rafforza il nostro attaccamento a questi schemi, che vengono quindi attivati in modo semplice e immediato. In tema di migrazione, non riusciamo a demolire gli schemi ricorrenti della paura e della sicurezza. Quando ci confrontiamo con chi ha posizioni scettiche sulla migrazione, tendiamo a citare i fatti e richiamare l'attenzione sui diritti, ma spesso otteniamo in cambio reazioni aggressive. Molti ritengono che il nostro approccio si presenti come arrogante e delitario, lasciando nel pubblico la sensazione di essere trattato da stupido o addirittura razzista. Abbiamo l'impressione di camminare su un campo minato e dobbiamo capire a fondo la situazione se vogliamo coinvolgere il pubblico in maniera efficace. Viviamo un momento di incertezza economica e politica. Le società sono sempre più divise. Molte persone si sentono fragili e inascoltate. I populisti hanno sfruttato e alimentato questo scontento per dirottare le paure della gente verso un unico nemico, l'immigrazione. Ma se continuerà a diffondersi una narrazione basata sulla paura, l'invasione e la minaccia, rischiamo che le uniche risposte accettabili per la politica restino quelle che parlano di sicurezza, protezione ed esclusione. Per evitarlo, il nostro ruolo deve essere quello di tenere separate le preoccupazioni e le ansie delle persone dall'attuale narrazione tossica. Come possiamo farlo concretamente? Possiamo attingere dalle tante esperienze di riformulazione della narrazione. Finora, nelle nostre attività di comunicazione, abbiamo concentrato i nostri sforzi solo per rispondere o smontare le posizioni antimigratorie più estreme. Esiste tuttavia un folto gruppo di persone che non è particolarmente favorevole o fortemente contrario all'immigrazione, ma che sull'argomento è preoccupato e confuso. Questo gruppo viene in genere indicato come il centro scontento o fluido. Se vogliamo cambiare la narrazione e arginare il populismo, dobbiamo impegnarci a coinvolgere di più questo segmento centrale. In un secondo luogo, prima di affrontare temi delicati, dobbiamo allentare la tensione emotiva per creare una connessione. In pratica, questo significa riconoscere le preoccupazioni delle persone che vogliamo coinvolgere, che in questo modo saranno più predisposte a un vero dialogo. Terzo, dobbiamo sapere come aprire la conversazione e costruire un ponte verso un pensiero più inclusivo. Per farlo, possiamo individuare le paure e i valori che condividiamo e partire da lì per avvicinare le posizioni del centro fluido alle nostre. Per esempio, una ONG partner che opera nelle città degli Stati Uniti utilizza i seguenti messaggi. Quasi ogni cittadino americano si sposta per motivi di studio o lavoro, esattamente come fa chi cerca di migrare verso gli Stati Uniti. Tutti i cittadini americani aspirano a lavorare per vivere. Lo stesso vale per i nuovi arrivati. Permettiamo ai migranti di farlo sotto la tutela della Costituzione e di contribuire alla crescita economica e del paese. Ma non tutti sono d'accordo con queste idee. E alcuni nutrono delle riserve verso questo tipo di approccio. C'è chi teme che un simile approccio sia troppo debole e tolga forza al loro messaggio. Dovremmo invece non arretrare dalle nostre posizioni. In realtà, con questo approccio non scendiamo a compromessi, ma creiamo le condizioni affinché le nostre idee attecchiscano meglio. Riconoscendo infatti le preoccupazioni e le paure di un nuovo pubblico e capendo quali tasti e motivi toccare, apriamo le porte a un dialogo costruttivo. A quel punto potremo discutere in modo diretto e approfondito sulla realtà della migrazione. Inoltre, qualcuno pensa che questo approccio si riduca solo a un'operazione di facciata o a un'astuzia linguistica. Ma come dimostra il nostro esempio, non si tratta di rendere più accattivante il nostro messaggio. È invece l'occasione per riformulare il discorso attorno a valori comuni e creare nuovi schemi mentali positivi. Infine, sentiamo spesso ripetere che se solo le persone conoscessero i fatti, sarebbe tutto diverso. Sfortunatamente, però, un approccio basato soltanto sui fatti sembra chiudere porte più che aprire al dialogo. È arrivato il momento di tentare una strada nuova e abbandonare le posizioni difensive. Riformuliamo il dibattito. Guidiamo la narrazione. Stabiliamo i toni. Usciamo dalla nostra bolla e allarghiamo il cerchio includendo nuove voci e punti di vista. Così facendo, spostiamo l'ago della bilancia per rendere l'inclusione qualcosa a cui aspirare. Cerchiamo gli elementi comuni invece di evidenziare solo le differenze. L'esperienza dimostra che questo approccio funziona ed è accolto bene. Proviamo quindi a usarlo e scoprirlo insieme. Noi vi aiuteremo a fare il primo passo offrendovi supporto e consigli. Che ne pensate di iniziare, ad esempio, con il nostro kit di strumenti? Ecco, e con questa introduzione lascio la parola a Chiara che ci racconterà come capire meglio la nostra possibile audience. Mi confermate che si vede lo schermo? Perfettamente. Sì, perfetto. Grazie, grazie per l'invito. Ha già detto Andrea cosa abbiamo fatto. Noi in realtà abbiamo costruito per questa iniziativa la parte di fondamenta che sono le fondamenta conoscitive di questo segmento, di questi incerti che sposando la teoria e il framework comunicativo che ci viene proposto sono coloro che possono essere più facilmente intercettati e per usare una parola forse un po' superata convertiti. Partiamo dallo scenario in cui abbiamo raccolto i dati. Era il 2017. Accennavo nella chiacchierata iniziale che si tratta di uno scenario che solo in parte in realtà è superato dagli eventi e poi magari alla fine della chiacchierata vi do anche qualche indicazione di cosa ci aspetta post-Covid secondo quello che ci hanno raccontato gli italiani. Ci sono una serie di dati strutturali che in realtà non sono cambiati che hanno a che fare col fatto che il paese è un paese afflitto da una serie di problemi che conosciamo tutti quindi la denatalità l'invecchiamento e il calo della popolazione un livello di istruzione del paese prevalentemente medio e basso che tra l'altro la crisi Covid ha messo bene in luce insieme alla scarsa digitalizzazione che ha messo nei pasticci moltissimi insegnanti che non erano pronti a trasformare le loro lezioni diciamo in presenza in lezioni a distanza oltretutto un paese con appunto un livello di istruzione inferiore a quello della media dei paesi Ocse con un percentuale che migliora tra le cohorti di età di una percentuale di persone istruite che migliora tra le cohorti di età più giovani peraltro meglio tra le donne che non tra gli uomini che si laureano con dei tassi di successo più elevati ma con un tasso di occupazione comunque basso e soprattutto basso tra i giovani e poi un problema che affligge l'Italia da sempre quello che si definisce l'analfabetismo funzionale cioè una persona su tre in Italia che non è in grado di decodificare il significato di una frase semplice quindi per esempio che non sa leggere e decodificare le istruzioni base per far partire una lavatrice e quindi fa il classico processo di prova ed errore ma soprattutto lo leggevo poco tempo fa sette italiani su dieci non possiedono gli strumenti per affrontare la complessità con cui il mondo di oggi ci sfida peraltro nel 2017 mettevamo fuori il naso e facevamo i primi passi fuori da una crisi economica decennale che sembrava non finire vedevamo tra il 2018 e il 2019 i primi segnali di una ripresa timida che poi in realtà questa crisi sanitaria ha messo di nuovo in crisi e in un clima di incertezza un clima sociale generale di incertezza e di insicurezza in cui le persone ci raccontavano di sfiducia nel futuro e soprattutto fortissima sfiducia nelle istituzioni che vi anticipo ha preso un segno diverso negli ultimi tre mesi ma diciamo sostenuto prevalentemente da uno stato di bisogno e di paura per cui ci si è si è tornato si è tornati a fidarsi delle istituzioni in mancanza sostanzialmente di un'alternativa quindi vi invito a continuare a seguire i sondaggi pubblici di Ipsos perché noi stiamo continuando a monitorare il clima di fiducia perché non ci aspettiamo affatto che questa ripresa sia poi sia poi costante abbiamo raccolto peraltro questi dati a valle della messa a punto del decreto Minniti quindi la richiesta alle ONG che stavano in area SAR di sottoscrivere il codice di condotta quindi era un momento anche dal punto di vista di clima generale rispetto ai migranti alle migrazioni particolarmente difficile questo però vi dico subito che se può avere può incidere in generale sulle opinioni e su alcuni atteggiamenti tendenzialmente è nostro parere che non incida in modo forte sul set valoriale delle persone ed è proprio su questo tema che poi tutta questa iniziativa che Andrea ci ha descritto fa leva cioè il centro incerto di cui parliamo fra pochissimo in realtà è dotato di una di un set valoriale che lascia spazio che lascia la porta aperta a un certo tipo di contronarrazione positiva che può fare breccia quindi è importante tenere conto di questo e quindi che non sempre tutto è così cupo come ci sembra di percepire peraltro un'altra cosa che ci piace sempre dimostrare è che di fatto le persone preoccupate che sono dimostrate dall'andamento di questa curva rossa che vedete andare su e giù lungo tutto la linea temporale a partire dal 2017 per arrivare all'inizio di quest'anno nulla avevano a che fare con i reali sbarchi gli arrivi via mare quindi in realtà come dire le opinioni sono non tanto legate ai fatti e qui di nuovo cito Andrea che ha confessato appunto la caduta in fondo di un mito che è quello se facciamo del fact checking se usiamo i fatti per convincere le persone avremo dei grandi risultati qui avete la rappresentazione plastica del fatto che non ci sono fatti che tengano e che quindi a fronte anche di sbarchi sostanzialmente annullati per motivi di accordi con la Libia piuttosto che di Mare Grosso in certi mesi dell'anno nulla valeva quanto invece una narrazione profondamente securitaria e come dire conflittuale impaurente di cosa rappresentava l'arrivo dell'immigrato nel nostro paese e dunque che cosa abbiamo scoperto leggendo leggendo i dati molto rapidamente abbiamo avuto intanto la conferma che le persone erano molto insoddisfatte gli italiani erano molto insoddisfatti molto preoccupati si portavano dietro questo decennio di crisi e quindi la disoccupazione abitava come prima primissima preoccupazione in un ranking in cui certo c'era anche il fenomeno dell'immigrazione ma sicuramente non stava certo tra le preoccupazioni prevalente e soprattutto un grande sconcerto davanti a questo altro fenomeno globalizzazione perché parlo di fenomeni perché un conto è parlare appunto dei fenomeni che finiscono in una disoccupazione globalizzazione immigrazione un conto è poi raccontare e interloquire con le persone a livello più minuto più personale più individuale e quindi parlare di il tuo posto di lavoro o il posto di lavoro dei tuoi figli come abbiamo ben visto espresso anche nel video piuttosto che l'immigrato vicino di casa o la persona straniera che in casa mia mi aiuta che ne so a badare a una persona anziana o mi aiuta nelle faccende di casa e invece la ha il fatto che per esempio l'Italia sia il primo esportatore al mondo e quindi grazie anche alla globalizzazione di una serie di eccellenze tra cui l'alimentare non è certo la prima ma per esempio la tecnologia biomedicale sconosciuta ai più è una reale eccellenza di questo paese quindi la contrapposizione tra i grandi fenomeni e poi le esperienze individuali abbiamo anche in quell'anno raccolto un paese un profilo di paese che si autodescriveva come debole arrabbiato diviso soprattutto abbandonato dalle istituzioni nazionali da governi diciamo di poca durata o litigiosi e soprattutto dalle istituzioni sovranazionali gli italiani sono noti sono stati noti per tanti anni come i primi sostenitori in Europa dell'Unione Europea eravamo fortemente europeisti e siamo finiti diciamo a fare il fanalino di coda tra i 27 paesi e a invocare l'Ital Exit dopo che Brexit c'era sembrata una così ottima idea per come ce la stavano raccontando i nostri colleghi inglesi altro tema il fenomeno migratorio che rende la percezione dei nostri confini come di un colabrodo e quindi la paura dell'invasione quindi incapacità delle istituzioni di gestire i migranti e quindi paura dell'invasione al punto che avevamo trovato per esempio sull'affermazione sono disposto anche a scendere io a difendere personalmente i confini l'avevamo trovato a un'adesione piuttosto elevata quando appunto come dicevo all'inizio passiamo da una percezione fenomenologica a una percezione invece di individui e quindi le persone migranti e non più l'immigrazione come fenomeno che fa paura tra gli italiani prevale un sentimento di accoglienza quindi la comprensione del fatto che chi migra lo fa spinto da una necessità da un bisogno vedremo poi che però anche all'interno dei bisogni ci sono dei ranking quindi ci sono dei motivi di migrazione che nella testa degli italiani hanno più cittadinanza che non altri e l'ultima cosa ovviamente il retaggio l'educazione cattolica che più o me chi più chi meno un po' tutti noi abbiamo respirato in qualche modo fa parte di questo sentimento di accoglienza di fatto in uno dei segmenti che abbiamo ritrovato tra la popolazione italiana questo tra l'altro è fortemente fortemente caratterizzante quindi eccoci al risultato della nostra segmentazione esattamente come diceva Andrea il 48% di questo centro incerto in realtà sta tra un estremo di accoglienza in cui troviamo quelli che abbiamo definito i cosmopoliti e gli umanitari con una forte impronta cattolica e dall'altra parte di questo continuum quelli che si ergono a difensori di una cultura non meglio definita ma comunque diciamo quelli che fanno le barricate contro l'eventuale contaminazione della nostra cultura e una piccolissimo segmento per fortuna di persone dichiaratamente ostili e xenofobe in mezzo nel come dire in questo scenario italiano troviamo tre segmenti che si connotano per una qualche sofferenza e che la trasmettono con o un disimpegno quindi con una posizione diciamo moderata rispetto alle migrazioni ma una sostanziale disimpegno una voglia di non ingaggiarsi un segmento che abbiamo definito trascurati non nel senso che non si lavano non si pettinano ma trascurati dalle istituzioni e che l'etichetta inglese in realtà definiva con molta più precisione perché era lasciati indietro left behind e poi i preoccupati per la sicurezza e quindi quelli più che più ascoltavano le sirene securitarie le sirene che facevano dell'immigrato una fonte di pericolo per l'incolumità personale questo appunto è un 48% quindi non è una maggioranza ma è una maggioranza relativa diciamo una maggioranza assoluta ed è leggermente più basso del segmento incerto che abbiamo rilevato in Francia decisamente più basso di quello invece rilevato in Germania dove gli incerti erano molti di più velocissimamente gli accoglienti i cosmopoliti sono persone sostanzialmente che abbiamo trovato privilegiate persone che si definiscono laiche che si collocano a sinistra o centro sinistra che si dichiarano difensori dei diritti umani supporter delle organizzazioni non governative questi si considerano cittadini d'Europa del mondo perché sono persone che hanno le risorse culturali ma anche economiche per girare il mondo per capire il diverso per cogliere la ricchezza della diversità mentre l'altro segmento accogliente è un tipo di accoglienza diciamo più mossa da valori di compassione da valori anche fortemente improntati alla religiosità infatti lo vedete allineati per esempio ai tempi alle posizioni di Papa Francesco sulla necessità di accogliere tant'è che in questo segmento noi troviamo persone altrettanto diciamo poco colpite dalla crisi economica come per gli italiani cosmopoliti ma tendenzialmente più attempate e quindi con un retroterra diciamo di educazione cattolica più robusto di quello che potremmo avere che potreste avere parte di voi in parte forse anch'io e come vedete l'autocollocazione non dà conto di una di una destra o sinistra necessariamente ma un'autocollocazione che distribuisce comunque le persone intorno a una sorta di centro di una moderazione diciamo delle posizioni politiche sui segmenti chiusi dicevamo c'è un tema anche di xenofobia quindi una visione dell'immigrazione fortissimamente ostile addirittura delle posizioni per cui gli immigrati sono anche una minaccia per la nostra salute sono quelli che in questi giorni stavano dicendo non fate scendere nessuno dall'Ocean Viking perché abbiamo già virus abbastanza e ce ne portano degli altri oltre che ovviamente per la sicurezza quindi qui diciamo che troviamo uno zoccolo che si autocolloca fortemente a destra quindi a destra identitaria forte ancor più che populista quindi un movimento fortemente identitario con radici in una visione estremamente tradizionale della società quindi un cattolicesimo magari non agito ma più di come dire di identità culturale di appartenenza e per esempio una visione dei ruoli maschile femminile estremamente antica e molto molto radicata ci sono poi i difensori della cultura che a fronte di un paese che loro percepiscono come debole arrabbiato diviso temono che appunto l'arrivo dall'esterno di nuovi modi di culture diverse in qualche modo vada ad imbastardire quella che è un'identità culturale italiana estremamente precisa quindi l'immigrato è un diverso integrare non significa accogliere e in qualche modo mescolare ma sono diciamo relativamente aperti a una integrazione da fuori solo a patto che questa si accompagna a una totale rinuncia e quindi a una totale assimilazione delle persone anche qui abbiamo un'autocollocazione politica prevalentemente centro centrodestra e una maggioranza tra l'altro di uomini su cui non faccio commenti perché non mi sono mai tanto spiegata questi uomini che si ergono a baluardo della cultura italiana più interessante andare a vedere invece che cosa ci dicono i segmenti incerti allora questo primo segmento che dicevo più più preda no delle sirene securitarie che in quel periodo tra l'altro gridavano forte perché Matteo Salvini aveva fatto partire la sua campagna elettorale già da ben prima che la data delle elezioni fosse chiara quindi era e lo stesso Di Maio parlando delle ONG nella primavera del 2017 le aveva definite i taxi del mare quindi diciamo persone che in qualche modo avevano si erano molto identificate con questa rappresentazione del migrante come di uno che minaccia la mia sicurezza la mia incolumità e anche la sicurezza del mio paese sono però persone che interrogate sull'individuo migrante quando li si riporta a riflettere sul tema del razzismo si dicono preoccupate per questa deriva diciamo questa forte opposizione questa forte ostilità e quindi li definiamo incerti e li abbiamo collocati in questo centro incerto proprio perché dichiarano comunque di essere permeabili a un certo tipo di narrazione che in qualche modo li faccia sentire solidali con chi loro considera in qualche modo bistrattati qui si tratta di persone giovani adulti o persone mature attenzione interessante con istruzione bassa e occupazione a bassa specializzazione e quindi persone che per esempio hanno difficoltà alla compressione di messaggi complicati e che sono direttamente concorrenti con la mano d'opera immigrata che in questo momento abbiamo in Italia quindi voi lo sapete probabilmente meglio di me che gran parte delle persone immigrate sono andate a occupare posti di lavoro a bassa specializzazione qui ci sono tre esempi di come queste persone vedono l'immigrazione sono esempi con cui usiamo appunto delle icone ma che avete ritrovato nel filmato iniziale quindi vedono le persone come sostanzialmente tutti neri ci descrivono quindi un'immigrazione fatta prevalentemente che arriva dall'Africa un'immigrazione prevalentemente maschile e un'immigrazione minacciosa quindi i criminali le prigioni questi sono parte di coloro che nel nostro annuale controllo diciamo delle percezioni degli italiani i paris of perception raddoppiano il dato dei detenuti di origine straniera rispetto alla realtà però appunto noi continuiamo a raccogliere questo tipo di indicazioni fatti verso percezioni non per dimostrare che gli italiani sono ignoranti o non sanno ma proprio per dimostrare quello che Andrea ci stava dicendo e cioè che è inutile gridare i fatti davanti alle paure le paure sono molto molto più insistenti molto più importanti dei fatti secondo segmento incerto sono i trascurati queste sono le persone che degli effetti della crisi economica e della globalizzazione hanno patito di più o in prima persona quindi con per esempio tutta la l'uscita dal mondo del lavoro forzata diciamo dai pre-pensionamenti persone che magari sono andate in pensione nel senso che sono uscite dal mondo del lavoro ma hanno dovuto attendere per poter percepire la loro pensione o ancora di più persone per cui l'immigrato diventa il concorrente nel posto di lavoro per i figli infatti lo vedete sono persone prevalentemente mature e anziane anche qui con istruzione media o bassa e che di nuovo vedono nella migrazione una competizione nell'accesso al mondo del lavoro ai servizi di welfare quindi il nemico diciamo per eccellenza di nuovo anche qui cosa abbiamo rilevato dal punto di vista dell'apertura queste sono persone che capiscono cosa significa diritto di asilo cioè che quindi sono disposte a una simpatia nei confronti di coloro che chiedono di essere accolti nel nostro paese ancor più quando si tratta di minori migranti su quale potremmo discutere per un sacco di tempo perché minori migranti fa venire in mente a tutti i bambini quando poi i minori migranti ce li hai in un centro di accoglienza dietro l'angolo dietro casa ti rendi conto che sono come dire minori sì ma sulla soglia della maggiore età e tendenzialmente sono dei bei ragazzoni anche un po' rumorosi e quindi che ben si prestano per esempio alla narrazione della alla narrazione per esempio securitaria che è stata che è stata così tanto sfruttata queste sono persone per esempio che raccontano di un'immigrazione senza avere mai sperimentato una vicinanza con una persona straniera quindi quasi nessuno di loro conosce un immigrato questo è importante perché queste persone qui quando gli chiediamo di farci vedere cosa intendono per immigrazione intendono il bisogno di una moltitudine di persone intendono il ragazzo straniero che porta via il lavoro al proprio figlio meritevole e persone che arrivano appunto come disperate sui barconi quindi un'iconografia molto molto precisa terzo segmento secondo me il più interessante in assoluto è un segmento di giovani perché li abbiamo messi negli incerti perché in realtà queste sono persone che hanno un'idea molto specifica di cosa vuol dire emigrare di chi sono i migranti e del perché le persone si spostano quindi anche grazie al fatto di essere giovani di avere un buon livello di istruzione sono in grado di comprendere questioni complesse come per esempio la migrazione spinta dal cambiamento climatico una parte di questi sicuramente sono poi a un certo punto scese in piazza sull'onda di Greta piuttosto che scese in piazza insieme alle sardine ma una buona parte in realtà che cosa ci ha raccontato di stare in mezzo a un guado sostanzialmente quindi di stare in una sorta di limbo generato da promesse non mantenute degli adulti e delle istituzioni infatti non si autocollocano per esempio dal punto di vista politico perché pensano che nessun tipo di movimento o di partito attuale li rappresenti davvero sono persone spesso per esempio nei focus group di approfondimento che ci hanno raccontato di essere stati a loro volta migranti cioè di essere andati fuori dai confini nazionali a cercare delle opportunità di lavoro quindi dei tre gruppi della maggioranza incerta questi sono i più permeabili a un racconto per esempio di similitudine di possibilità di trovare dei punti di contatto con i migranti tant'è che alcuni ci dicono facciamo parte dello stesso gruppo anche noi siamo o migranti a casa nostra o comunque siamo andati a cercarci la fortuna altrove per esempio rispetto agli altri due gruppi in questi questi ragazzi non fanno una differenza della migrazione per motivi economici o della migrazione per protezione umanitaria perché appunto si identificano in parte con i migranti attuali qual è il loro problema che in questo momento l'abbiamo scritto qui stanno alla finestra quindi non si sentono di impegnarsi in prima persona non si sentono di esprimersi in prima persona sul tema proprio perché sono loro tanto bisognosi quanto i migranti e quindi le icone che scelgono per restituirci la migrazione sono icone diciamo con un carattere prevalentemente positivo nei focus group di approfondimento per esempio loro ci hanno detto vabbè ma che palle cioè le migrazioni sono sempre esistite perché adesso dobbiamo parlare di migranti come si trattasse di una roba nuova in fondo i barbari premevano ai confini dell'impero romano per cercare di acquisire questa straordinaria ricchezza di cui si favoleggiava fuori dai confini per acquisire le ricchezze di cui ci si si raccontava no? perché non è che i media erano diversi ma le narrazioni viaggiavano viaggiavano comunque nei piedi dei legionari romani ci parlano di una società multietnica ci parlano però e lo vedete con l'ultima icona che hanno scelto per auto rappresentarsi di un difficilissimo equilibrio della loro vita e allora la frase che bene li aveva il verbatim che bene avevamo isolato nei focus group era ragazzi io faccio fatica a tenere in equilibrio la mia vita come potete pensare che io mi possa impegnare per aiutare altri a tenere in equilibrio la loro però però di nuovo anche questo un segmento sicuramente permeabile a una comunicazione mirata chiudo rapidamente con covid allora in tutto questo ci siamo come dire regalati anche l'irruzione di una un'inaspettata crisi inaspettata per certi versi in Ipsos l'abbiamo definita dall'inizio un cigno nero in realtà con il senno della retrospettiva il famoso senno del poi ci siamo anche detti che in realtà ce lo potevamo aspettare magari non potevamo dire nel calendario quando sarebbe arrivato ma tutta questa prilievo di risorse naturali dal pianeta ha messo in moto ha messo in moto questo virus e a nostro avviso se non ci fermiamo davvero ne metterà in moto anche altri in futuro e che cosa ci lascia e questi sono dati molto recenti di poche settimane fa ci lascia in realtà dell'amaro in bocca i primi giorni del lockdown ci siamo raccontati a noi stessi ma soprattutto al mondo esterno i miei colleghi nei nei 90 paesi che compongono la galassia Ipsos mi hanno investito di mail tutti carinissimi vi pensiamo vi abbiamo visti cantare sui balconi ma che belli gli italiani come sono solidali in realtà gli italiani sanno benissimo lo vedete qui che a meno di un piano davvero importante che priorizzi una serie di azioni concrete da parte del nostro governo tutto tornerà come prima e quindi torneremo a litigare su twitter su facebook torneremo a insultarci tra fazioni e torneremo a farlo forse anche in modo più ancora più virulento perché di fatto quello che ci aspettiamo è che la paura e lo vedete qui al centro di questo slide andrà di nuovo ad infuocare una serie di sentimenti ostili e di chiusure perché perché in realtà ci troveremo a fare i conti con le tasche degli italiani questo virus non è affatto una grande opportunità ha messo subito in luce che l'Italia è profondamente diseguale una volta tanto l'ha messo in luce come dire dal punto di vista sanitario in modo inverso cioè ha messo in crisi il profondo nord dove l'economia tira dove Milano è questo straordinario momento di rinascita possibile del paese l'ha messo fortemente in crisi però di fatto nel medio termine tornerà a rimettere in crisi il sud del paese tornerà a mettere in luce le profonde divisioni le profonde disuguaglianze renderà i poveri ancora più poveri e metterà al riparo di nuovo i più ricchi quindi può darsi che i populisti diciamo dantanna e qui sono rappresentati dal mangiatore di ciliegie e dall'uomo candeggina diciamo che forse potranno avere una crisi di consenso personale ma non è detto che poi non ritrovino del terreno fertile proprio se la crisi economica continuerà a mordere è sicuro che ci troveremo di fronte a una forte tentazione di ripiegarci in modo difensivo come è avvenuto durante la crisi economica del passato decennio e soprattutto ci stiamo dimenticando delle donne e dei bambini perché se tanto ci da tanto e se la nostra lettura dei piani del governo per questo paese è realistica ci stiamo dimenticando che le donne hanno sostenuto la gran parte dell'onere del caregiving durante il lockdown che continuano a sostenere questo onere perché anche la riapertura non è stata una riapertura dei servizi di welfare a sostegno della famiglia e che ci sono ancora troppissime incertezze rispetto alla riapertura di settembre per esempio delle scuole e non si è affatto capito quali sono le misure a sostegno dell'occupazione femminile stiamo già vedendo con Istat una rinuncia delle donne alle occupazioni per occuparsi della famiglia dei bambini che sono rimasti a casa nell'estate noi dubitiamo fortemente che ci sarà come dire un new normal in cui le donne potranno tornare al lavoro potranno recuperare il loro posto nel mondo del lavoro perché i figli saranno badati di fatto il new normal secondo noi proprio non esiste e qui concludo perché siamo fortemente convinti che la ripresa non sarà affatto uguale per tutti non solo dal punto di vista di come verranno messe in campo gli aiuti di quali saranno le misure di sostegno soprattutto di quanto dureranno le misure di sostegno se pensiamo alla cassa integrazione ancora non si capisce ma soprattutto per come siamo fatti noi italiani quello che ci aspettiamo e di cui però non abbiamo ancora un quadro certo dal punto di vista della consistenza dei segmenti è che ci sarà un gruppo di diciamo un cluster un segmento di italiani che si ripiegherà in una sfera familiare alla ricerca di un ritorno a una stabilità perduta durante la crisi sanitaria e questo in una sfera un po' più diciamo sociale un po' più di interazione ma ci sarà anche un ritorno di una richiusura difensiva a livello individuale con la tentazione di andare a recuperare una propria vita pre-covid che a nostro avviso non esisterà assolutamente più e ci saranno poi invece dei segmenti che guarderanno in prospettura e quindi a un'occasione per migliorarsi personalmente dalle piccole cose se pensiamo agli anziani costretti a prendere dimestichezza col digitale per farsi mandare le ricette dal medico e poi spedirle alla farmacia la mia mamma ha 86 anni e per certi versi lei ha colto questo cambiamento per il meglio in questo senso qui si tratterà poi di capire se questo è un cambiamento che è qui per durare e quali sono poi le opportunità che abbiamo per continuare ad alimentarlo in qualche modo cioè se un merito ce l'ha il covid è di avere dato una botta alla digitalizzazione di questo paese una botta disordinata all'italiana ma che secondo noi deve essere in qualche modo cavalcata e poi diciamo forse e in Ipsos ci aspettiamo che questo sarà per una nicchia una più elevata coscienza sociale diciamo una sensibilizzazione più elevata rispetto a quelle che sono le cose che da questa crisi abbiamo imparato e cioè è che se l'overshoot day cioè il giorno in cui abbiamo finito le risorse del pianeta abbiamo cominciato a vivere a credito l'anno scorso era il 29 luglio forse quest'anno grazie al covid slitta al 31 agosto ma continuiamo ad avere in quest'anno quattro mesi in cui preleveremo delle risorse che il pianeta non sarebbe disposto a cedere perché non sono rinnovabili nel giro di poco tempo quindi ci aspettiamo appunto che in una parte a nostro avviso purtroppo di nicchia della popolazione cominci a radicare la necessità di dare una svolta all'esistenza affinché tutti poi ne possano ne possano godere in positivo qui mi fermo passo la parola non so se Andrea o grazie grazie Chiara possiamo passare direttamente la parola a Marco Marco ok raccogliamo poi le domande dopo per entrambi Marco sei in muto benissimo grazie la voce è più lenta della mano in questo caso ovviamente ringrazio per l'invito è una bella opportunità per ritrovarsi abbiamo sperato tutti di vederci di persona ci arrangiamo così allora intanto che faccio partire di slide vi dico niente è complicissimo fare due cose insieme allora nella nella prima slide ci sono già alcune cose importanti questo mi rallenterà no quello che vi volevo dire e che cercherò di stare nei tempi nel caso interrompetemi vi prego la cosa che volevo aggiungere o che posso aggiungere le cose dette io sono molto abbastanza entusiasta del video che è stato fatto vedere all'inizio perché mi sembra racconti in modo molto chiaro anche molte delle cose che che vorrei dire che dirò anche magari aggiungendo qualcosa sperando magari spiegando meglio e però aggiungendo anche un livello perché quel video appunto spiega bene quanto i punti di vista sul mondo adesso non ricordo la bella traduzione italiana che comincerò a usare perché uso molto più banalmente e pigramente l'idea di frame come per poco vi dirò cioè come le visioni i cornici che inquadrano il mondo e i media sono importanti perché ancora persino i mass media i vecchi media sono importanti perché sono un livello in più perché spesso ormai il dibattito su questi temi si sta anche per fortuna orientando sul discorsi d'odio il dibattito e conversazioni sia diciamo da bar che nel bar nel grande bar offerto per esempio da facebook purtroppo non è il solo elemento e quindi dobbiamo trovare delle strategie che funzionano bene in quelle conversazioni che pensino anche a questo secondo livello che è quello di cui mi occupo appunto dipartimento di comunicazione ricerca sociale e cerco appunto di farlo come sociologo con la comunicazione sia avendo presente i dati sono molto contento che ci sia stata questa presentazione dei dati che già conoscevo ho già sentito anche la chiara stessa e però aggiungendo questo livello quindi farò un velocissimo spero punto della situazione sulla narrazioni mediali e poi vedere un po' quali sono i frame appunto questi fornici narrative che li inquadrano per vedere per dare qualche elemento sia sulle trappole in cui si è accaduti secondo me e anche le possibilità di costruire una narrazione allora situazione molto semplice in realtà molto veloce perché è stabile è ferma io non ho pensato a nulla per fare il covid forse cerchio di non pensarci ma una cosa interessante è che forse solo il covid potrebbe cambiare ma dalle notizie delle ultime tre giorni non credo proprio che cambierà ma si può trappeggiare ma la narrazione almeno dall'inizio degli anni 90 meglio dalla fine del perché un'immagine ferma più o meno a questo livello è impressionante questo è il famosissimo per chi conosce un po' o c'era all'epoca sbarco primissimo grande sbarco di massa dall'Albania che allora era in crisi nel 91 che è diventato icona in quegli anni dell'immigrazione e un po' la scoperta per il dibattito pubblico del fatto che esistesse l'immigrazione che l'Italia era ufficialmente diventata un paese di immigrazione ovviamente era successo molto prima e due anni prima c'era stata la nuova legge dell'immigrazione ma questo è stato il momento in cui la coscienza pubblica si è svegliata e è interessante vedere quest'altro volto perché anche la mia memoria personale questo è stato uno dei primi ricordi anche la prima manifestazione antirazzista a cui ho partecipato era per Gianni Maslow che è stato ucciso a Villa di Terno appunto era un richiedente asilo rifugiato dal Sudafrica dell'Apartheid che era stato ucciso per frutti di motivi probabilmente razziali e razzisti in Italia dove si era rifugiato da un paese ancora più razzista e mi ricordo che è stata appunto l'occasione di una delle primissime manifestazioni antirazziste ed è stato un po' uno shock per la società dell'epoca che ancora e questa narrazione è durata per almeno tutti gli anni 90 quell'Italia si raccontava ancora come un paese in cui il razzismo non poteva e non fosse attecchito salto fino all'altro ieri in senso perché appunto da molti punti di vista questa immagine è rimasta immobile là ultimissimo dato un'altra crisi come quella albanese c'è stata in ultimi anzi due altre crisi sono state come quella albanese negli ultimi anni c'è la crisi seriana e la crisi libica che hanno aumentato radicalmente gli ingressi e gli arrivi via mare in un certo periodo di tempo come sappiamo ed ha aumentato in maniera clamorosa appunto ha aumentato quattro volte come vedete questo grafico molto velocemente la linea rossa le notizie sui telegiornali che parlavano tant'è vero che questa forza della notizia che non dobbiamo trascurare perché vuol dire qual è l'argomento su cui tutti devono avere un'opinione tutte e tutte devono avere un'opinione devono pensare qualcosa che è considerato importante un solo un giorno nel 2019 non si è parlato di immigrazione sui telegiornali di cosa si parla sui telegiornali anche questo è un dato che con proporzioni diverse negli anni è costante dei flussi ovviamente soprattutto in questo triennio questi ultimi anni perché appunto ci sono state queste crisi ma se quello appunto sbarchi diciamo a riviviamare e criminalità e sicurezza come seconda notizia sostanzialmente la cosa interessante è che le altre notizie società cultura accoglienza eccetera anche se molto presenti ma dipende molto del come vengono affrontate per esempio nel 2019 società cultura è stata affrontata con un particolare chiave di lettura ma le notizie in questi 30 anni sono state soprattutto queste due ma credo che comunque abbia una frequentazione di giro però tutte le ricerche o ricerche non solo italiane europee infatti anche negli Stati Uniti confermano questa immagine nei paesi occidentali più o meno è sempre questa l'immagine che viene dai miei che ovviamente ci sono cose oltre che le notizie di accoglienza cultura integrazione salute mancano mancano anche altre notizie e anche questo è importante per capire quanto si possa costruire un diverso modo di vedere o quanto si possa sollecitare nelle persone diverse immagini ovviamente mancano queste non sono domande erotauriche anzi non l'ho ancora aperta aprirò anche la chat così da avercela non riesco a farlo contemporaneamente c'è presto eccolo qua terrò la chat sott'occhio così da vedere anche le vostre se ci riesco nel caso te la giriamo esatto grazie ovviamente le altre un'altra sicuramente cosa che manca sono i diretti protagonisti delle notizie cioè appunto le persone dei diretti economisti immigrati immigranti persone di origine straniera persone stranieri sono lo 0,5% sempre questo è il precedente rapporto dell'associazione carta di roma realizzato dall'osservatorio di paria 0,5% del 7% delle notizie dedicate all'immigrazione questo è un dato interessante perché corrisponde al dato per esempio dell'autorità garante delle comunicazioni che fa un'andagine sul pluralismo sociale in cui è molto interessante vedere seguendo la serie storica diciamo ci sono le due categorie che possono essere interessanti sono macro categorie l'associazionismo diciamo il terzo settore i movimenti e le persone protagoniste della vita sociale cioè per esempio anziani giovani migranti e queste categorie residuali hanno valori residuali appunto da 0,5% mediamente quindi è una deformazione dell'informazione italiana in generale ovviamente cosa altro manca il resto del mondo perché o da dove arrivino le persone in questo mercato specifico c'è un'altra ricerca molto interessante sempre osserva le notizie dagli esteri le notizie dagli esteri sono e da alcuni continenti in particolari sono assolutamente minoritarie e la cosa interessante è che quando anni fa c'erano le crisi dimenticate c'erano alcune crisi proprio ignorate nei media e che quando si parla di immigrazione si parla di immigrazione legata o al terrorismo o all'immigrazione scusate quando si parla di esteri quando si parla del resto del mondo ne si parla in rapporto all'immigrazione o al terrorismo quindi il resto del mondo ci interessa solo quando in qualche modo ci interessa direttamente ci tocca direttamente questa secondo me è una questione io vi faccio un elenco purtroppo di cercando di essere breve di questioni su cui si potrebbe agire una questione del come l'informazione tutto il mondo di informazione web o cartaceo o telegiornali o radio abbia un punto di vista che è ancora il punto di vista nazionale quindi che ha una visione del mondo ormai lo possiamo dire che è tutto provinciale perché ormai l'Europa non è neanche più una potenza quasi non è più una potenza economica mondiale è un punto di vista provinciale che forse bisogna trovare il modo di superare altre razioni di cui questioni bisogna tener conto lo sbarco come dicevo prima è ancora l'icona immigrazione questa ha una conseguenza molto forte nel fatto di pensare l'immigrazione come sempre qualcosa in corso in arrivo l'immigrazione ormai appunto a 40 anni perlomeno e quindi pensarla schiacciato sull'arrivo di ieri è come minimo parziale ovviamente c'è il tema della cronaca nera quanto è stato importante e quanto è importante per raccontare quel poco di presenza quotidiana e c'è un grosso problema di coltivazione almeno coltivazione scusate un termine un po' tecnico nel senso un po' disciplinare e significa nel senso la capacità dei media di sedimentare col tempo e quindi costruire un'influenza degli effetti col tempo con la ricorrenza nel tempo degli stessi elementi il fatto che ci sia questa immagine molto stereotipata e ferma su alcuni elementi sempre gli stessi non fa altro non ha fatto altro che produrre quella rappresentazione che abbiamo visto cioè quel 24% di persone che ha una visione così polarizzata è stata costruita nel tempo è stata rafforzata e ha trovato conferme alle proprie idee in questa rappresentazione informativa e anche questo non possiamo dimenticarlo come non possiamo dimenticare che questa sedimentazione nel tempo non è stata statica ma ha voluto dire costruire un escalation e ha sdoganato molto sui linguaggi appunto Già rimaslo nell'89 fu uno scandalo uno stesso evento come c'è stato anche simili eventi anche a caserta in baraccopoli usati da abbraccianti di regione straniera non hanno lo stesso effetto come alcuni termini che fino a 15 anni fa erano tabù non si volevano dire per esempio sono razzista ora un quotidiano nazionale anni fa poteva scrivere sono razzista e scriveva siamo razzisti quindi anche questo conta ovviamente quello che accennavo prima cioè la mancata presenza delle voci in prima persona vuol dire anche mancata presenza da una parte c'è un'esclusione ovviamente il sistema media senza scomodare immagini apocalittiche o da propaganda un modello di propaganda ovviamente tende a escludere voci dissonanti quando soprattutto su questi temi è così sedimentata azione quindi c'è una forte azione esclusione delle voci di minoranza ma anche dall'altro lato bisogna dircelo non sempre capacità di riuscire a entrare nel discorso del media entrare con narrazioni diverse e questo ovviamente è il tema che l'ha detto Andrea all'inizio diventare narrazioni vi dico solo questa cosa velocemente non è solo allora noi i dati che ci hanno che ci sono stati esposti fino adesso abbiamo chiaro che non c'è un'opinione identica su tutta la popolazione italiana ci sono una cosa scontata appunto ci sono diversi pubblici che pensano cose diverse su cui funzionano diverse sollecitazioni e stimoli quindi è importante pensare diverse narrazioni per queste persone diversi messaggi attivare conversazioni focalizzate su questi diversi pubblici il punto però delle narrazioni secondo noi non è tanto questo è che dietro alle narrazioni alla narrazione dominante quella che ormai abbiamo visto confermata in 35 anni di storia mediale ci sono grandi affreschi c'è un'immagine del mondo c'è un'immagine dell'Italia nel mondo c'è un'immagine della vita associata ci sono delle narrazioni che non possiamo più chiamare grandi dal 1979 però almeno ampie narrazioni che inseriscono danno senso a tutti questi a questo puzzle a questi piccoli elementi per cui all'interno dello stesso racconto ha senso essere preoccupati non so della malattia che arriva dall'altro capo del mondo e contemporaneamente essere preoccupati dell'ambulante sotto casa quindi una grande narrazione tende a dare senso soprattutto in una situazione in cui abbiamo tantissime informazioni molto vastagliate e quindi non avere narrazioni ampie in cui inseriamo ogni piccolo discorso le rende potenzialmente non efficaci allora quali sono queste narrazioni dominanti molto velocemente ovviamente molto facile dire che lo straniero è al centro di tutte queste narrazioni però sono narrazioni che hanno direzioni diverse sono rischi diversi un amico che aggredisce tre spazi diversi ovviamente c'è l'invasore c'è il criminale che aggredisce il nostro portafoglio diciamo e c'è l'estraneo quello che aggredisce la nostra cultura quindi c'è l'invasione l'entrata nello spazio c'è l'aggressione che è l'aggressione appunto al nostro corpo ai nostri averi notate notate quanto è facile in queste narrazioni rifarsi risuonare con narrazioni presenti nell'immaginario collettivo l'immagine è lo sceriffo del far west pensate quanto è forte e quanto si lega bene al modo in cui è raccontata la cronaca questo è un altro livello ancora ogni narrazione ogni frame si appoggia su degli elementi che è un generale collettivo e se ne rafforza e può giocare con queste ovviamente l'ultima molto facilmente anche qui ci sono risonanze pensate quanto l'epanto sia stata usata la battaglia di l'epanto sia stata usata tutta l'ascendenza dell'immigrazione come minaccia per le radici giudaico-cristiane ovviamente tutto l'armamentario di una certa propaganda si ritrova ma anche in piccoli elementi questa è una slide è un'immagine di un quotidiano che ovviamente racconta l'immigrazione come spazialmente proprio come un'invasione ovviamente anche il racconto sulla criminalità viene usata in stesso modo allora fino adesso dato per scontato Frame citazione del divulgatore anche uno dei studi di Maggiore Laghoff del Frame mette in evidenza quanto il Frame si è legato al linguaggio tra il suo potere ha fatto essere definito intorno a metafora e narrazioni la questione importante del Frame per quello la usiamo è che quando essendo legato fortemente al linguaggio se noi usiamo ogni volta che si usa un certo linguaggio alcune parole si attiva o disattiva preciso Frame in questo senso Frame Laghoff è un cognitivista quindi studia funzionare la mente Frame si intende il modo di funzionare la mente dei percorsi neurali che ci permettono di comprendere la realtà ogni linguaggio o le narrazioni le metafore attivano alcuni percorsi quindi se noi senza accorgere usiamo lo stesso linguaggio attiviamo quella metà ovviamente ci sono anche Narrazione Frame dei media che sono quelli che più o meno ho già raccontato la cosa interessante è che noi abbiamo per esempio il Frame della crisi dell'arrivo via mare che ha un solo contro Frame cioè un'altra sola narrazione alternativa anche quella molto presente è abbastanza forte anche se minoritaria che è quella della narrazione umanitaria cioè l'opera di salvataggio in mare è interessante come per esempio sulla sicurezza non ci sia nessun'altra narrazione ma da probabilmente 50 anni o da tantissimi anni non c'è nessuna alternativa alla visione securitaria del mondo forse sta emergendo adesso negli Stati Uniti con il movimento antirazzista ovviamente la cosa interessante non faccio un tempo per farvela vedere che i frame sono legano i diversi elementi della narrazione uno all'altro questo li rende potenti perché basta l'immagine della cartina appunto la cartina con l'arrivo con le frecce neuromifrecce dei flussi in arrivo non fanno altro che attivare e si ricollegano con tutto il resto del frame di quella cornice mentale e quindi sono tutti legati ovviamente ogni all'interno di questo frame funzionano delle singole storie dei racconti i tazzi del mare era un racconto che stava dentro quella narrazione e giocava e spostava dall'umanitario verso l'immaginario dell'invasione pensate tutta l'idea della sostituzione etnica come se anche quella è una narrazione all'interno di quel frame o quella di Soros il Soros che costruisce anche un nemico una causa che mancava come costruiamo alternative allora l'abbiamo già detto ormai lo dicono tutti l'ho sentito ormai dire in più oggi non è la verità non è il fact-checking che smonta le le narrazioni proprio perché tutto quello che è escluso dal frame non viene neanche preso in considerazione come ci dice di nuovo Lakoff perché è un martello perché questa è una metafora migliore secondo me perché viene in frame è una testa con una testa a martello lo vede tutto in chiove e quindi se io mi presento con un altro attrezzo sarà comunque in chiove e quindi ovviamente non funzionano neanche i dati allora vi dico secondo me qual è una metafora chiave in cui sono costruiti questi tre frame la metafora chiave è la metafora che su cui è costruito tutto è un'analogia di base che permette di immaginare una cosa complessa immaginare pensate alla nazione quanto sia un'idea complessa con una storia con una popolazione eccetera e venga costruita intorno a una metafora che permette di comprenderla e ovviamente per la nazione la metafora base su cui si fonda tutta la narrazione della questa frame è quella della casa io uso la casa per definire una nazione a quel punto una cosa molto più complessa della casa e anche che non c'entra nulla con la casa viene compresa diventa spiegabile e allora è facile usarla e vedete quanto solo questo padrone a casa nostra già da solo attiva tutta quella narrazione perché usa quella metafora in due modi appunto usando il termine casa ma anche il termine di essere padroni a casa quindi rimanda a un'esperienza diretta di chiunque di noi che però evoca questa questa immagine mentale molto più complessa cioè che la nazione è una casa ovviamente è il primo errore base che non bisogna mai fare e tutti l'hanno scoperto appena l'ha fatto con questo post di usare le stesse metafore se io uso la metafora della casa per negare quel frame quelle narrazioni ho già sbagliato ovviamente ci sono tanti modi di evocare anche senza usare come in quel caso il termine casa si può pensare all'accoglienza usate l'immagine la metafora dell'accoglienza che guarda caso di nuovo rimanda alla spiritualità alla casa pensate quanto questa campagna no? proprio letteralmente welcome a fin immagina l'idea della soglia domestica ovviamente in questo caso vuol dire anche usare lo stesso tema vi dicevo vi ho fatto vedere quel dato come l'immigrazione l'arrivo via mare non solo è diventato lo sbarco e lo sbarco non solo è diventato l'icona dell'immigrazione ma rappresenta anche un pezzettino dell'immigrazione cioè quella che è in corso non quella che è già arrivata perché ormai vive a fianco a noi e quindi c'è un forte effetto di agenda in questa narrazione e quindi è molto difficile scalfirlo usando lo stesso infatti secondo me probabilmente chiuderò con questo visto che il suo grado del tempo ci sono quattro trappole in cui si è caduti siamo caduti molte narrazioni sono cadute in questi anni contro una narrazione in questi anni e per esempio il primo è questo cioè non riuscire a cambiare l'argomento non riuscire a spostare l'agenda si continua a parlare di mare gli arrivi e gli sbarchi e questo diventa la parte per il tutto le seneddoche per parlare di immigrazione il primo problema il frame umanitario secondo me è molto ed è molto chiaro non solo è minoritario ma non funziona perché come dire è tutto un immaginario molto depoliticizzato che diciamo presta anche molto facilmente all'accusa di essere buonista sapete l'immagine del buonista è un'immagine che in qualsiasi conversazione sia mediale che dei social media ti smonta perché ovviamente ti lascia un'opinione appunto umanitaria e basta esattamente la trappola in cui si cade la terza trappola è quella di costruire proposte politiche tutte focalizzate sulla gestione e l'aiuto degli immigrati che in qualche modo tendono di nuovo a confermare da una parte tendono a confermare questa divisione noi loro dall'altra non costruisce un terreno comune molto giustamente il video diceva bisogna battere quella separazione bisogna far trovare e partire da alcuni valori o esperienze condivise se noi continuiamo a non trovare delle proposte o dei problemi in cui che accomunano le persone di origine straniera e le persone di origine italiana le persone che viaggiano vogliono andare all'estero o con le persone che sono venute al nostro interno tutto ciò secondo me non aiuta e l'ultimo punto e poi mi fermo qui magari vi dirò altro nelle domande è di non costruire sapete che tutta l'azione le tante campagne le tante associazioni che hanno lavorato sui dreamers negli Stati Uniti hanno state anche molto efficaci e sono state molto studiate secondo me ovviamente era un caso questo dei dreamers ma l'idea di costruire una relazione in positivo e che spiazzino e che raccontino e riescano a raccontare anche i lati positivi raccontare i sogni riuscire a usare anche un po' di ironia di fantasia forse non sempre ci sia riusciti piccoli progetti anche progetti artistici per esempio sono riusciti appunto a questo lavorare non solo dati non è solo un fatto di dati e di verità ma è anche un fatto di trovare degli spiazzamenti innovare trovare formule inaspettate secondo me è una direzione utile e mi fermo qua così dobbiamo sporare grazie mille Marco Andrea non so se vuoi chiudere tu poi appunto siamo abbastanza puntuali direi per cui le domande diciamo lasciamo la possibilità post chiusura a chiunque dovesse andare di sganciarsi poi ci lasciamo questi 15 minuti per rispondere alle diverse domande che sono emerse sì io direi magari di ripassare un po' la palla a Chiara e a Marco su in particolare ritornando a quelle cose cercando di vedere un po' adesso anche nelle domande visto che abbiamo messo in luce quale può essere la nostra audience abbiamo messo in luce cosa non funziona quali sono le trappole comunicative e informative la domanda che verrà ovviamente sviscerata anche nei futuri appuntamenti è qual è la metafora nuova qual è la metafora che funziona e soprattutto che tipi di messaggio funzionano dal molto diciamo globale locale dal globale fino al locale ovviamente il contesto è sempre molto molto importante uno degli ultimi esempi se vi posso diciamo dare io qualche idea e poi lascio la parola a Chiara e a Marcos per dirci quali sono dalla loro esperienza le metafore che gli suonano meglio è stata il mio contributo è molto concreto stiamo parlando con una persona ieri che sta sviluppando in Inghilterra una campagna per favorire il ricongiungimento familiare perché è una delle poche casistiche che ancora è possibile con la legge sull'immigrazione post Brexit in Inghilterra e durante la conduzione dei focus group il messaggio ricongiungimento familiare va a pochissima risonanza anche all'interno di segmenti tendenzialmente moderati mentre quando la comunicazione andava direttamente sul è una una moglie che ricongiunge il marito sono i figli che cercano di ricongiungersi con il padre o con la madre quindi quando si evocava la relazione diretta della famiglia quindi si capiva cos'era il ricongiungimento familiare andando a capire chi si ricongiunge con chi e si inserivano le storie personali di famiglie separate da anni allora lì trovava tutto un altro tipo di di accoglienza a questo tipo di messaggio che dal punto di vista pratico dal punto di vista legislativo non cambia nulla si tratta di un ricongiungimento familiare ma le persone di fronte a quel tipo di messaggio lì reagivano in maniera molto molto più più positiva su questo un'altra cosa che prima di lasciare la parola agli altri che mi premevo aggiungere è che oggi dobbiamo fare abbiamo fatto una riflessione sul messaggio abbiamo fatto una riflessione sui canali e quindi i medium oggi il mondo che si occupa secondo me di solidarietà e di diritti deve fare anche una riflessione sui messaggeri cioè dobbiamo capire quali sono quali profilo possa avere un portavoce efficace di messaggi che magari vengano dal nostro mondo ma che non necessariamente devono essere espressi solo dal nostro mondo e un'altra cosa che lascio più come una suggestione è oggi capire come campire meglio come funzionano le piattaforme soprattutto le piattaforme social e che tipo di dinamica 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 scusate instaurano sulla rafforzamento delle bolle perché questo è un problema oggi molto molto importante quindi non so chi vuole intervenire fra prima Marco o Chiara magari magari diamo una lettura giusto rapidissima delle domande così nel rilasciare la parola a loro magari si agganciano anche qualcosa emerso così poi andiamo in chiusura se siete d'accordo ok ne sono uscite diverse domande moltissime da da Flavio che non so se è ancora dentro o se è dovuto uscire già no Flavio c'è diciamo chiedeva soprattutto credo nel corso del 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 sintesi di Chiara come come possibile cogliere l'opportunità che il covid ha offerto per potenziare alcune attività digitali sul lungo periodo domande anche molto ampie tipo come combattere le fake news sull'immigrazione che è qualcosa che abbiamo toccato in questa fase ma è sicuramente un tema molto molto ampio come costruire una narrazione globale che permetta di gestire positivamente l'immigrazione pone l'accento sulla parola globale quindi credo con un intervento e un'attività come dire anche cross nazionale e oltre alla singola associazione ma forse più in un'ottica di appunto di movimento internazionale rossella sappiamo cosa non funziona le trappole cosa può funzionare qua credo sì fosse durante il racconto di Marco Binotto quale può essere la nuova metafora cosa potrebbe evocare Binotto proposte e Marco ha già risposto credo che le possibili proposte arriveranno nei prossimi meeting in parte nel senso che alcune risposte purtroppo non ce le abbiamo ancora nel taschino sono tutte da scovare qualcosa in termini di approccio di modalità sicuramente tireremo tireremo fuori ecco e poi molti ringraziamenti a entrambi per la vostra testimonianza Chiara Marco se volete reagire anche all'ultime stimolazioni di Andrea e poi se non ci sono poi altre domande andiamo ah io ne avevo una in realtà per Chiara scusate mi inserisco poi so che non devo fare a Chiara domande esquisitamente come dire sul consenso politico perché non è quello che avete mappato però personalmente una cosa che che ho trovato particolare e quello forse sia un black swan nel senso che è vero che il black swan è forse un finto cigno nero nel senso che qualcosa si poteva prevedere qualcosa ce lo si aspettava credo che però per i movimenti progressisti diciamo in giro per il mondo che osservano ormai da anni una galoppata apparentemente inarrestabile di narrative e forze partitiche di stampo nazionalista non ci si poteva aspettare come dire un intervento così esterno che ponesse sotto i fari e sotto l'attenzione mediatica globale come i paesi in questo momento governati dai più grandi leader diciamo riconosciuti come leader nazionalisti siano allo stesso tempo i paesi che stanno vivendo questa emergenza con più difficoltà ora non vorrei banalizzare chiaramente il link tra leader nazionalista uguale politiche inefficaci sono anche paesi molto grandi penso al Brasile penso agli Stati Uniti però è un fatto cioè che si potrebbe probabilmente a livello di narrazioni e qualcuno lo starà anche facendo giocare su atteggiamenti appunto irresponsabili molto che prendono molto di petto queste problematiche tendenzialmente derubricandole a fatti minori quando emergono salvo poi arrivare in ritardo con possibili soluzioni e quindi poi scontare quello che sta succedendo in questo momento non so se dal vostro osservatorio come dire avete nasato come questo fatto di come dire appunto politiche inadatte possa in qualche modo in generale in generale una perdita di consenso per rispetto alle narrative ecco più nazionaliste però adesso lascio a voi ma allora in realtà un nesso causale diretto non è così facilmente recuperabile tra l'altro leggevo che Bolsonaro forse è positivo il covid che ridere va beh non è non è così diretto diciamo che queste queste crisi mettono ci mettono sempre a disposizione un sacco di storie carine qualcuno ha provato anche a far circolare il fatto che i paesi guidati dalle donne siano quelli che stanno uscendo meglio adesso poi faremo i conti alla fine può anche essere può anche essere e forse non è nemmeno così casuale diciamo che stanno succedendo alcune alcune cose che forse il covid ha un po' accelerato ma di cui percepivamo un po' l'onda lunga se avete seguito le comunali in Francia sono emerso la forte anima verde dei francesi il covid ha accelerato sicuramente questa questione ma diciamo che più che premiati per l'ambientalismo forse sono stati questi rappresentanti sono stati premiati da un atteggiamento estremamente concreto in tempi in cui siamo abituati un po' in tutto il mondo a politici che fanno tantissimi proclami e che poi non ci fanno vedere dei programmi come dire veramente concreti per cui un po' difficile da dire certo in questo momento Ipsos segnala una crisi di consenso per Trump che sia legata anche a una gestione un po' sprovveduta di questa crisi può essere diciamo che lui stava comunque un po' perdendo il suo sprint quindi io onestamente sulle domande che ho visto qui in chat non essendo un'esperta di comunicazione mi sono molto impreparata allora l'unica l'opportunità della digitalizzazione allora qui ci vogliono degli investimenti spiace dirlo che molto spesso il tema sono i soldi nel senso che l'Italia ha chiuso il digital divide dal punto di vista strutturale nel senso che con poche zone diciamo bianche l'Italia è quasi tutta raggiungibile e comunque c'è un programma ministeriale e c'è un organismo pubblico demandato alla chiusura di queste zone bianche con sistemi di wifi alternativi diciamo che più che altro quello che va combattuto è l'ignoranza la scarsa digitalizzazione degli individui qui qualcuno ci si è trovato infilato un po' a forza e forse questo andrebbe veramente cavalcato nel senso che per esempio a livello locale i sindaci potrebbero pensare a delle a delle misure di come dire di formazione a delle iniziative di formazione anche che ci sono già per carità per la terza età ma diciamo cogliere un po' quest'onda e insistere molto dopodiché però il grande tema è quello della formazione permanente di cui in Italia non c'è cultura che è anche uno dei motivi per cui abbiamo una totale dissonanza tra le richieste del mercato del lavoro e l'offerta dei lavoratori che non sono preparati a riempire posti di lavoro che restano vuoti per mancanza di competenze quindi abbiamo un problema appunto di mancanza di cultura di formazione permanente come anche di cultura però digitale anche ai livelli della scuola primaria e secondaria di primo grado quella che una volta si chiamava la scuola dell'obbligo nel senso che la famosa informatica che a un certo punto era sbucata nei programmi ministeriali in realtà non ha mai preso corpo come non ha mai preso corpo l'insegnamento della lingua della seconda lingua sono non è dire delle vestigia di questa formazione ma nella grandissima parte delle realtà non esistono proprio quindi formazione è purtroppo ci vogliono ci vogliono i soldi però non mi sembra che siano chiare le priorità di dove andranno sti soldi continuiamo a parlare chiedo scusa qui ci sono le ambulanze di spinta ai consumi mi sembra che non non sia esatto quello che mi riguarda non sarebbe questa la priorità però temo che così sarà grazie la comunicazione è Marco l'esperto Marco e andiamo in chiusura si fa quel che si può e cento pistole graficamente per quanto riesco la questione è strategica non di trovare il messaggio giusto dispiace nessuno di noi adesso usa questo la pillola definitiva e funziona ma non lo potrei chiedere anche a professionisti che fanno comunicazione questo perché non funziona così qualcuno si spaccia che riesca a fare così ma anche i pubblicitari non è che tirano fuori i pubblicitari sono all'interno di una cornice strategica fanno tanta ricerca fanno quello di mestiere per anni e piano piano sono bravi a trovare lo slogan giusto allora prospettiva vuol dire prima fase analisi capisco quello che c'è come è fatto i pubblici qual è la situazione da dove vengo qual è la situazione a ragione Andrea la situazione come funzionano i media come funzionano i media che utilizzerò perché il media non è il messaggio quindi il modo in cui funzionano i media è importantissimo per definire il modo in cui riesco a usarlo e l'efficacia che ha faccio tanta analisi e comincio a pensare strategicamente dove voglio correre quando io parlo di frame come qualcosa che sta sopra le storie e le narrazioni vuol dire proprio questo cioè qual è l'idea di mondo e l'idea dell'immigrazione che noi vogliamo coprire questa non mi sembra del tutto formulata neanche da chi ci lavora o magari c'è in singole associazioni ma non è del tutto condivisa o almeno un paio non sono del tutto condivise con frame io intendo proprio immaginate quello che la Lega ha costruito negli anni cioè un'idea l'immigrazione pone un tema ben preciso delle cause un modo di affrontarlo i problemi dei problemi che porre appunto delle storie da legarci eccetera sono tutte legate una all'altro e poi all'interno di questa storia che è sempre la stessa di questi legami di causa-effetto diciamo così queste idee questa interpretazione della realtà Bossi usava fuori dalle balle in dialetto quindi anche ci provo a ridirlo Salvini dice un'altra cosa e Maroni diceva un'altra cosa ancora cioè i singoli messaggi all'interno di una narrazione più complessiva sono più facili da trovare anche perché si legano uno all'altro hai questo deposito che hai costruito nel tempo quindi è molto più facile finché non abbiamo una bella idea complessiva è difficile trovare singoli messaggi o se troviamo singoli messaggi magari funzionano bene per un po' ma non si legano alla strategia generale vi faccio l'esempio secondo me migliore negli Stati Uniti ragionano sui frame da un bel po' e hanno secondo me un buon modo di costruire advocacy il concetto di racial injustice di giustizia razziale è il modo in cui sempre più spesso vedo presentato il problema razziale il problema del razzismo non è presentato come problema del razzismo ma come diseguaglianza legata è difficile tradurre cioè usare razziale in italiano però legata alle minoranze quello è già se ci pensate sicuramente è declinato così è già un'immagine completamente diversa del problema cioè il problema non è più i neri che sono trattati male ma è un sistema che produce diseguaglianze e svantaggi all'interno di questa narrazione complessiva è facile tirar fuori la clarity matter o altre singole campagne o slogan efficaci ma l'idea complessiva è completamente ribalta a quella precedente o quella dell'avversario allora all'interno di questa idea complessiva è facile trovare singole idee carine singole idee carine secondo me ce ne sono state anche in Italia e negli Stati Uniti esempio italiano italiani senza cittadinanza italiani senza cittadinanza un gruppo di ragazzi giovani con una non una grossa struttura organizzativa dietro hanno costruito le narrazioni secondo me molto efficaci sia dal vivo sia online che sui media facendo le due cose che vi dicevo prima cioè cambiare l'agenda l'immigrazione non è quella degli sbarchi l'immigrazione è quella delle persone che vivono in Italia sono nate e cresciute e quindi occupatevi di noi cambiamo argomento e il secondo tema troviamo dei modi per parlare di storie cioè parlare di un'Italia che è già multiculturale ma perché già lo era e un'altra cosa molto carina che non faccio un tempo a farvi vedere l'idea di confrontare l'immigrazione a un esempio dell'immaginario collettivo statunitense stranato è quello di Superman Superman era un immigrato illegale una campagna che ha un blog poi per cui i vari immigrati cominciavano a raccontare se stessi come se fossero Superman è un po' nella direzione non è una campagna perfetta ma un po' nella direzione di trovare delle narrazioni note a tutti che raccontano un mondo diverso narrazioni con degli eroi con degli eroi positivi che facciano sognare che permettano di arricchire anche il linguaggio arricchire l'immaginario e non stare sulle differenze questo è un po' giusto ho provato a rispondere online ma sono troppo un po' giovane per fricciappare bene grazie mille Marco se non c'è altro è stato detto prima una possibile via è proprio quella di far parlare i diretti interessati cioè gli immigrati grazie Claudio noi ci vediamo domani con il secondo di questi tre appuntamenti all'interno come dire del cappello fuori dalle bolle l'appuntamento di domani si chiamerà riprendersi gli spazi costruire nuove narrazioni perché la solidarietà riguarda tutti il parco ospiti e le partecipazioni domani sono tante ci sarà Rossella Vignola di osservatorio Balcani caucas il nostro partner in questo progetto ci sarà Annalisa Camilli che è una giornalista di internazionale come molti di voi saprete perché scrive tanti e belli articoli sul tema se ne occupa tanto ci sarà Paola Barretta una ricercatrice dell'osservatorio di Pavia e Agostino Zanotti di Rivolti ai Balcani quindi ci sarà anche un'esperienza dal punto di vista delle organizzazioni impegnate sul tema domani diciamo il focus è un po' più orientato ma non in modo esclusivo al tema della rotta balcanica quindi ci sarà modo anche un po' di calarsi in quell'ambito sempre alle 17.30 esatto Flavio anzi qualche minuto prima così alle 17.30 cominciamo precisi e poi chiudiamo come oggi alle 19 più i 20 minuti ecco di domande post io ringrazio tutti per aver partecipato anche i temerali che hanno tenuto duro fino ad adesso ringrazio Marco e Chiara per essere stati con noi Andrea per aver immaginato e coordinato questo momento e ci vediamo domani grazie a tutti buona serata ciao 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 Grazie a tutti